Frate, e a me non domandi dell'asino? Già, voi dovreste saperlo, perché gli asini vanno con gli asini. È un'allusione? È una sioma. Dica al marchio adesso, vedremo di fare qualche cosa. Voi potete fare qualcosa contro Don Liborio. Beh, io forse no, ma lui sì. Eh sì, farò il possibile, vedrete. Io sto parlando di Sant'Antonio. Ma questo è lui, lui chi? L'asino mio. E ne riconoscete la voce. Ma nel regno delle due Sicilie una voce così ce l'ha soltanto il somaro mio. Senti com'è intonato? Il viaggiello mio finalmente ti ritrovo. Oh, come stai? È tutto sano sei. Ma non si mettono mica le mani addosso. Oh! Chiazzo. Buono. Buono. O sai che sono io? Sì, ciao. La pace sia con te. Eh, e dove vai? Master of the... Grazie a tutti.